Auditorium, i concerti di Ameria Radio. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Questa sera in programma di Niccolò Paganini il concerto per violino e orchestra numero 1 in Mi bemolle maggiore opera 6. Nei suoi tre movimenti, Allegro Maestoso Tempo Giusto, Adagio Espressivo, Rondò Allegro Spiritoso Un Poco Più Presto. A farcelo ascoltare è l'orchestra da camera di Santa Cecilia, solista e direttore Uto Ubi. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti